Grazie ad una raccolta firme promossa in primo luogo da residenti e consiglieri di quartiere, in accordo con l'amministrazione comunale, è stata programmata per Santa Veneranda la realizzazione di diversi interventi mirati a migliorare l'intera viabilità del centro abitato. Tra i primi progetti in partenza, la realizzazione di una rotatoria e di una strettoia, misure utili per migliorare la circolazione dei mezzi che transitano nel quartiere e per le quali ha voluto contribuire anche un privato cittadino. Questa nostra iniziativa è partita dal fatto che da mamma, insieme ad altre mamme del quartiere, c'è sorta la necessità di fare qualcosa per aiutarci nella vita quotidiana. Ciò non toglie che questa cosa, appunto, noi sappiamo che la cosa più importante sarà la realizzazione della circonvaluazione, quindi quella è una cosa importantissima che ci risolverà tutti i problemi, ma ad oggi ci siamo trovati nell'esigenza di poter far camminare i nostri figli per strada, di poterli portare al parco in tranquillità e in sicurezza, cosa che in questo momento a Santa Veranda non avviene. Da qui è nata appunto l'idea della raccolta firme, di metterci insieme. Non abbiamo voluto puntualizzare solo nelle nostre vie, ma un po' tutte le vie del quartiere, perché ci sembrava giusto fare una cosa, diciamo, per tutto il quartiere, anche perché Santa Veranda è un quartiere bello, è una prima periferia dove comunque presiede il verde e dove si sta bene, se veramente si vive bene, la vita ancora è molto bella e quindi volevamo portare un pochino, far rinascere quello che è il quartiere. Quali saranno appunto questi interventi? Allora, la rotatoria strada Santa Veneranda via Mantegna, chiaramente una rotatoria sperimentale che aiuterà chiaramente al rallentamento del traffico. Ci sarà una strettoia in via Bonini, anche quella in via sperimentale e altre piccole, grandi cose che aiuteranno la viabilità di Santa Veneranda. Altri cose che abbiamo chiesto sono semaforo a chiamata sull'interquartieri, di modo che i ragazzi possano attraversare e gli anziani, soprattutto meno veloci, possano attraversare la strada in maniera sicura, strisce pedonali più evidenziate, zona 30 laddove possibile chiaramente, stabilizzato nel parcheggio di via del Rio, nuove transene nel ponticello di via del Rio che sono arrugginite, sono faticenti. Piccole cose, piccoli interventi da qua alle grandi opere. Ci hanno dato delle priorità chiaramente, sono opere che partiranno da qui a dicembre, ha detto Belloni, entro dicembre avremo queste opere, chiaramente una alla volta, piano piano, perché dovremo sperimentarle, dovremmo calibrare il tiro strada facendo. Ci vorrà un pochino di tempo, un po' di pazienza, ma ci hanno garantito l'attenzione sul quartiere. Gli interventi in programma riguardano non soltanto la viabilità, ma anche la riqualificazione di alcune strutture malmesse del centro abitato. Quello che chiediamo in questa petizione è la sistemazione delle aste appunto del ponticello. La regione ci ha già assicurato che partirà la pulizia di tutti gli argini del Genica, quindi questo a breve dovrebbe partire, però ecco, quello che chiediamo anche è il fatto che si metta in sicurezza, diciamo, la parte delle balaustre, perché qua il ponte è stretto ed è pericoloso appunto anche per le macchine che passano, come vedete passano di continuo le macchine, quindi ecco, vorremmo un attimino sistemare e mettere in sicurezza anche questa parte. Volevo ringraziare chi ha lottato per Santa Veneranda e grazie particolarmente al consigliere comunale Maria Rosa Conti che ci ha aiutato, ai miei consiglieri di quartiere che comunque mi sono stati, mi hanno sopportato pazientemente, l'ingegnere Maria Cristina Rossi che ha reso possibile un intervento qui a Santa Veneranda e voglio ringraziare anche Matteo Ricci perché comunque ci ha messo del suo. Lui sapeva benissimo che non era un qualcosa contro di lui, ma era un qualcosa anche per lui.